Benvenuti o bentrovati all'interno di questo racconto. Oggi la penultima pagina del racconto di marzo, pagina numero 25. Senza ulteriori indugi vi lascio la pagina. Buon ascolto e buona lettura. 20 giugno. Promossa! P-R-O-M-O-S-S-A E con un distinto. Devo dire un grazie fantasmagorico al mio amore. E a te, Orsacchiotto. E benvenuto, Orsacchiotto e Orsacchiotini. Adesso siamo tutti una famiglia. Anzi, più famiglie. E sotto sotto li vedo i miei, che scalpitano per diventare nonni. Manca soltanto che io e Bruno ci sposiamo. E poi è tutto in ordine. Come va la vita dal mogliato, Orsacchiotto? E lei, signora Orsacchiotta, come si sente? Le piace il suo marito? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ha detto che un pancione così grosso lei non ce l'ha mai avuto quando mi ha avuto me ce la farò ad essere una brava mamma saprà essere Bruno un bravo papà come il mio alti e bassi compresi lo è stato per me mi dispiace se le nostre conversazioni non saranno più come prima con lo stesso ritmo di prima ma io adesso sto per diventare una donna più di quanto lo sia mai stata non ti vorrei mettere in un angolino ma dovremmo sentirci un po' più di rado ti dispiace? lo so che ti dispiace ciao l'orsacchiotto ha trovato famiglia la nostra protagonista ha trovato famiglia la famiglia della protagonista sembrerebbe accettare il bambino o i bambini perché la pancia è molto grossa e quindi a domani per leggere l'ultima pagina del nostro racconto e per sapere il finale effettivo di tutta la storia ciao ciao